Ehi, ma che succede? Sono ovunque! Ma dove è lezza? Eccolo laggiù che... dorne! Cosa succede qui? Ciao, zio Leonard! Lexa si è addormentata! Accidenti! Lexa! Mi sa che non mi sente tanto per cambiare! Potreste aiutarmi un attimo a radunare di nuovo le pecore? Certo! Cosa è? Sì! Beh! Oh, vecchietta, non ti sei accorta che le pecore sono scappate, eh? Ma Lexa non ci sente più bene? Ma sai, Fiona, Lexa dovrebbe essere già in pensione da tanto tempo, ma un nuovo cane da pastore costa un sacco di soldi. Dobbiamo aiutare in qualche modo lo zio Lennard. Trovato! Possiamo dipingere dei quadri e venderli. Non so. Potremmo raccogliere rane e venderle. Ma chi è che compra delle rane? Bambini, volete un po' di torta di fragole che ho appena fatto? Ho raccolto le fragole proprio poco fa nel nostro orto. Ecco, ho trovato! Potremmo vendere la deliziosa torta di fragole della nonna. Ma così non ne resterebbe per noi. Beh, vorrà dire che la nonna dovrà prepararne di più. Ci è venuta un'idea. Apriamo un caffè nella fattoria. E lì venderemo le torte della nonna. Così lo zio Lennard può comprarsi un nuovo cane da pastore. E le pecore non scapperanno più. Ehm, e dove vorreste aprire un caffè? Nel vecchio vagone! Guardate che dovrete lavorare tanto! Ah, che pesante! Attento, papà! Fuori di qui subito! Ehi, Ida! Attenzione! Pronti con l'acqua! Ah! Oh, scusa! Wow, quest'anno abbiamo tantissime fragole! La nonna non smetterà più di preparare torte. Oh, no, Mr. Buttercup! Ma che succede? Fuori di qui subito! Oh, finito! Ecco, le prime torte sono pronte! Anche il cartello è appeso! Ecco fatto! Siamo pronti per ricevere i clienti! Ma non dovremmo provarle prima! Giù le mani! È per i clienti! Mamma mia! Cosa succede qui? Ciao, zio Lennard! Ti piace il nostro vagone caffè della fattoria? Vagone caffè? Guarda, zio Lennard! Abbiamo già guadagnato tanti soldi! E abbiamo una sorpresa per te! La dottoressa Suna, la nostra veterinaria, ci ha raccontato di una cucciolata di Border Collie. Sono dei cani speciali e degli ottimi pastori! Così le abbiamo subito detto di farci una visita! Cosa che ho fatto immediatamente! E non è venuta sola! E lui sarebbe per me? Ma siete trementi! Adesso Lexa può andare tranquilla in pensione e dormire tutto il giorno! Se il cucciolo la lascia! Ha! 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 Fahr! Ha!